Musica Conduco un'azienda agricola che fa capo alla fondazione La Dimora dell'Angelo e produce per la maggior parte olio di oliva extravergine da quest'anno peraltro biologico Abbiamo appena ricevuto un finanziamento dal Gal Garganico per una diversificazione dell'attività greco quindi una trasformazione in fattoria sociale Non è molto facile accedere perché le pratiche burocratiche non lo concernono dovresti essere il tuo laureato e quindi poter accedere più facilmente a questi aiuti Non troppo buone Diciamo che stiamo partendo con una nuova prospettiva Musica 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 Musica